buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata di quattro chiacchiere oggi come ospiti abbiamo robbie da shanghai ciao robbie come stai ciao ben tutto bene grazie grazie dell'invito ah non c'è di che c'è più tardi ci ragionerà anche shin ebbene robbie io ti conosco da un anno circa e non so molto di te quindi questa intervista servirà un po appunto scoprire un attimo che cosa fai che lavoro fai tu ci parli da shanghai giusto sì 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 se vuoi posso dare un po su di me la presentazione sì 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 infatti che che lavoro fai robbie allora io ho studiato in italia a milano presso poconi poi dopo la laurea sono tornato in cina ho lavorato sempre con le aziende italiane dall'inizio sempre come interprete quindi freelance poi adesso ho fatto un po legge spot e ultimi due anni ho fatto anche una piattaforma che noi chiamiamo avvicina per fare le aziende italiane conoscere e lavorare meglio con il mercato cina questo è il mio lavoro principale sì sto a aperto un attimo tuo sito e niente sto guardando un attimo si interpreta traduzioni e supporto e da quanti anni che lo fai in questo lavoro più in totale allora 2010 a 2010 clienti infatti seguo da già da da proprio da nulla che prima si lavorava solo in italia poi 2008 visto che c'era il crisi finanziaria molte aziende italiane si sono rivolte al mercato all'estero soprattutto cina allora tante aziende c'è uno o due aziende ho cominciato a seguire fino adesso abbiamo fatto un lavoro nel senso che abbiamo preso il mercato quasi 30 50 per cento due anni fa sono diverse aziende quindi parliamo di diversi settori e questo settore che seguo da dieci anni è un settore diciamo che di origine comunque di lavorazione di marmo italiano quindi è un po come dire vent'anni fa italia lavorava molto su marmo poi ultimi dieci anni o vent'anni si è molto spostato questo centro di lavorazione in cina quindi questa piccola azienda familiare a brescia che comunque ha fatto la loro scelta di venire qua in cina e hanno trovato il loro mercato insomma e abbiamo fatto insieme questo lavoro ho capito quindi loro hanno spostato la la lavorazione del marmo in cina e come clienti loro hanno allargato la clientela oppure sono rimasti con la vecchia col vecchio pubblico la vecchia clientela giusto per capire come si sono evoluti allora io quando parlo della spostamento del centro di lavorazione di marmo parlo della intero trasferimento da intero italia verso l'intero cina nel senso prima si stecava il marmo dai brocchi ai lastre in italia poi adesso si porta il marmo in cina si lavora in cina e poi fa esportazione all'estero ok quindi tutta l'industria sta muovendo verso cina anzi è già in cina quindi infatti la cina forse occupa a metà di questo tipo di lavoro in cina e nel mondo eh ho capito ho capito e durante questo periodo di lockdown dove c'è stato appunto il virus il covid voi siete vi siete subito bloccati oppure siete riusciti a mantenere un po' di produzione soprattutto con questa tua esperienza del settore marmo come l'avete vissuta a livello sia adesso allora allora noi lavoriamo con programma di ordine allora solo quando c'è stato lockdown in italia dal mese di marzo fino al maggio ci ha fatto un un problema più grosso perché la produzione non poteva avvenire in quello periodo abbiamo dovuto spostare la consegna ai cinesi ho capito e adesso invece se avete ripreso ripreso gli ordini e le consegne o ancora non siete a regime l'ultimo mese ci stiamo riprendendo forte nel senso non solo i vecchi eh abbiamo esclusivisti su un tipologia di prodotto eh già eh consegna eh normale poi stanno arrivando le altre richieste noi siamo contenti di questa ripresa soprattutto da questo mese giugno e da che paese arrivano tutte queste richieste un po' tutto in generale o c'è un qualche paese che si sta riprendendo meglio che fa più ordini allora cioè quando parliamo del di questa tipologia di lavoro sta sempre nella provincia di fuggie eh molti clienti lavorano lì anzi si parla del eh marmo naturale sembra in quella zona ho capito ma poi il marmo dove viene utilizzato perché io sono un po' ignorante io penso sempre al marmo in cucina oppure eh per i cimiteri quindi mi viene sempre queste due immagini uno sul tavolo sul piano cottura oppure su eh appunto per fare le lapidi però io penso che sia utilizzata anche per fare grandi costruzioni sia sia in Cina che all'estero soprattutto grande costruzione e anche in villa grossa in Cina e prima dieci anni fa quando non c'era la restrizione del consumo da parte del governo allora tanti progetti eh eh fanno fanno parte del governo adesso sono più le bille eh che consumano marmo e poi adesso c'è una forte forte concorrenza da parte di ceramica anche avevo seguito ceramica in su questo aspetto eh eh anche la ceramica italiana sta funzionando abbastanza bene in Cina comunque sì 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 la ceramica qua viene soprattutto da da Sassuolo è qua vicino a Bologna dove abito io eh però durante la crisi hanno veramente avuto un blocco degli ordini perché non facevano più case o ristrutturazione quindi si è bloccato tutto adesso sento che stanno riprendendo però sì hanno anche loro sofferto anche qua della ceramica sì 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 no cioè il marmo il quanto parlo il mio lavoro di marmo si è ripreso sicuramente grazie alla costruzione costruzione di casa di progetti di hotel quindi è un po' similare all'influenza della ceramica sì sono mercati paralleli sono complementari sì sì e a proposito di hotel tu sai qualcosa sul turismo in Cina se sei ripreso o no perché in Italia adesso ci permettono di andare al mare oppure le seconde case si può spostare tra le regioni quindi in Italia ci si può spostare ho sentito di gente che è andata tornata a casa dai genitori o è andata a fare weekend al mare in montagna io adesso so poco sono pochissimo della Cina volevo sapere se siamo ripreso a fare un po' di viaggi dentro la Cina o fuori allora io non ho tante esperienze nel senso che in questo periodo di lockdown e soprattutto con l'impegno dell'azienda non posso non mi posso permettere di viaggiare tanto posso parlare di una esperienza di mio amico che aveva agenzia di turismo ha dovuto chiudere la sua agenzia perché proprio senza lavoro e ci sono diverse agenzie di turismo ancora parliamo anche di grosse agenzia che faceva parte anche del grande gruppo tipo Alibaba mi sembra si era dovuto chiudere sicuramente se parliamo portale di turismo parliamo di Ctrip Ctrip si famosissimo Loro stanno... cioè dovevano tagliare stipendio per mantenere il personale e poi adesso il il personale cerca di fare tzibo per fare attraere i più clienti insomma quindi stanno anche loro cercando di sopravvivere nella loro maniera nel loro settore Sì sì per esempio qua in America so che per esempio Airbnb ha messo a casa molti dipendenti e anche Booking ha restituito tutti i soldi alle prenotazioni ai clienti addirittura ha preso i soldi dai conti in banca degli hotel e li ha restituiti ai clienti che non potevano più viaggiare e anche le compagnie aeree hanno ridato i soldi quindi sì sì è una situazione molto molto pesante adesso sentivo che stanno riprendendo sia i voli che prenotazioni negli alberghi però è tutto molto lento e poi tutto in Italia i francesi in Francia gli inglesi in Inghilterra quindi non è ancora normale quindi non so se in Cina c'è qualche spostamento la gente fa vacanza dentro so che qualcosa sta succedendo sai qualcosa tu dall'interno Roby? su questo non te lo so dire è meno che non parlo perché non sono una persona che viaggia tanto per il turismo io viaggio per il lavoro sei sempre impuntato sul lavoro quindi sempre business e niente sai se ci sono altri settori del business che magari amici conoscenti che hanno avuto o problemi oppure hanno lavorato di più perché qua in Italia l'informatica ha lavorato molto di più per dire Amazon ha avuto tantissimi ordini durante il lockdown ha detto anche che non ce la faceva fare gli ordini uguale essere lunga con supermercati e la spesa online in Italia c'è stato boom non c'era logistica non c'erano abbastanza veicoli per fare le consegne persone per fare le consegne in Cina ho visto che le consegne funzionavano bene a febbraio e marzo sì 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 cioè su questo aspetto proprio è un miracolo nel senso che anche quanto è successo casino a Wuhan tante aziende logistiche a Ford tipo Jingdong hanno aiutato molto su questo aspetto la consegna delle merce soprattutto le mascherine sì anche dopo quanto si è un po' ripreso la situazione a consegnare a casa domicilio anche mangiare molto veloce e rapido in Cina anche fare la spesa non devi uscire di casa ti consegna subito e poi loro generalmente hanno un atteggiamento molto amichevole contro i clienti che ordina perché sono aziende grosse non sono nate in questi mesi anzi hanno all'epoca lavorano bene tipo Mailchuan, Jingdong queste aziende qua in questo periodo lavorano molto bene la gente è ritornata ai supermercati a comprare oppure preferisce comprare da casa per esempio tu stai uscendo a comprare oppure preferisci comprare online com'è la tua spesa? allora forse è meglio parlare delle abitudini dei giovani o delle persone che non amano il cellulare tipo i giovani a causa di questa lockdown allora sono sempre più abituati a prenotare fare la spesa online anche per comprare due bottiglie di acqua tre litri allora fanno subito why mai? la portano a casa non vanno neanche fuori al supermercato a comprare è tutto comodo perché alcuni palazzi non hanno ascensore allora preferiscono di fare così consegna l'abita e poi non c'è la mentera tutto pronto a casa tua quindi è ottimo servizio ah sì è vero in alcuni palazzi vecchi a Shanghai ancora non c'è l'ascensore io ho mia nonna abita al quinto o sesto piano adesso non mi ricordo e non hanno ancora l'ascensore è un palazzo degli anni 50-60 sì sì quindi no no quello è importante se uno non vive non lo sa sempre sui supermercati hai notato qualche differenza di prezzo o se manca qualcosa nei supermercati perché adesso in Italia mancano i guanti i guanti in lattice presente quelli in gomma mono monouso e non si trovano stanno c'è un mercato nero su ebay o facebook dove te li vendono tipo una scatola 9 10 11 euro e in realtà costano 1 2 euro prima del lockdown e adesso tutti tutte aziende sono obbligate ad avere i guanti monouso per loro e i clienti quindi non si trovano più io ti chiedo se in cina si riesce a trovare mascherine guanti alcol oppure da mangiare se c'è tutto manca qualcosa allora a proposito di mascherine forse bisogna risalire al periodo di gennaio quando proprio viene a sapere c'è questo virus i prezzi sono aumentati tanti tantissimi e non si poteva neanche prenotare dalla farmacia e quindi è intervenuto il governo se tu vendi a un prezzo esagerato ti mettono una multa e pian piano comunque grazie al controllo del governo si sono un po' calmati la situazione le mascherine in cina sono a noi presi in discesa quindi a questo periodo parliamo di mascherine quasi costo uguale come l'anno scorso tipo tipo quindi adesso è molto più facile e allora parliamo di 80 centesimi forse di mascherina sì 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 faccio la conversione adesso aspetta che c'ho google 11 centesimi mamma mia 11 centesimi pochissimo di euro qua in farmacia mascherine treveli chirurgiche fatte in cina costano 50 60 centesimi iva inclusa tra i 50 e 60 e sono garantiti dal governo il prezzo è garantito non puoi fare di più infatti su questo aspetto avevo fatto uno studio anzi ho seguito molto bene questo andatamento dell'esportazione di mascherine dalla cina verso italia c'erano tanti problemi non dico problemi solo burocrazia ma anche problemi di certificazioni e anche prima mancava il controllo della certificazione allora tutti dicono tutti i produttori cinesi dicono è questo certificato lo usavo già tante volte all'epoca non è successo niente poi arrivai in italia e come quello che avete sentito c'è questo l'altro problema e sono vengono sequestrate e anche per certificati falsi ci sono anche ente italiane che in questo tipo di c'è istituti che li lasciano certificato sì 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 noi come associna che è l'associazione di cui faccio parte abbiamo seguito un attimo alla situazione delle donazioni anche voi mi sa che avete spedito qualche lotto di mascherine in donazione quindi l'avete scoperto anche voi infatti vi ringraziamo per le donazioni che avete fatto e niente in associna anche là c'era un problema di certificazioni perché adesso il governo appena è arrivato il lockdown hanno messo una deroga hanno messo una legge per una deroga sulla conformità delle mascherine il problema è che negli ospedali comunque è richiesta la certificazione ce del certificazione europea e quindi anche se tu doni delle mascherine devo pur sempre essere certificate se vanno negli ospedali mentre per uso civile per uso delle persone normali si può ancora usare delle quelle non certificate credo sia fino alla fine di luglio adesso non so precisamente comunque quest'estate e niente quindi chi ha donato a volte ha donato però non poteva dargli gli ospedali e quindi ci hanno trovato anche noi nella stessa difficoltà e niente voi avevo provato a organizzare la donazione insieme altri amici e non si può proprio anche c'è la mancanza di volo per la merce ho capito non c'era il spazio sull'aereo addirittura e non c'è non c'era prezzo esagerato e non ti fanno codazione se vuoi spedire la mascherina e spediscono quando c'è e poi ti fanno sapere il prezzo dopo ah no così non va bene è un gioco al buio io guarda sapevo che le quotazioni hanno aumentato almeno del tre volte tanto del 300 per cento rispetto al periodo pre covid e sì spedizione molto cara adesso non mi ricordo cioè aspetta sì un pacco normale di mascherine erano circa non mi ricordo se milla o duemila mascherina chirurgica è costato più di 200 euro la spedizione dalla cina da qua più le dogane più le dogane quindi è molto caro in un periodo normale si fa sotto i 100 euro ecco un pacco un pacco infatti adesso ho ancora 1300 mascherine nel mio ufficio che all'epoca volevo spedire ai miei amici in Italia avevo capito che eri riuscito a spedire invece hai avuto problemi cavoli no i primi spedizioni andava bene quando non c'era il controllo poi è intervenuto il governo poi Inghilterra chiedeva contestazione tutti i stati chiedevano contestazione sulle mascherine cinesi allora pian piano il governo cinese comincia a controllare la confezione se c'è scritto ci è che prima non c'era eh sì se nella lista white list produttori se non è produttore direttamente non puoi più esportare sia per oggetti privati sia per commercio normale non puoi fare proprio quindi c'è una restrizzione che fino adesso c'è ancora quindi adesso le mascherine si trovano in Cina sono mi ha detto anche te il prezzo è basso sì 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 e altre altre cose volevo sapere se le scuole le scuole sono riaperte lì da voi a Shanghai le scuole per gli studenti sì 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 adesso in questo mese anche bambini cioè elementari cominciano hanno ripreso la scuola e poi no perché qua in Italia adesso ti spiego stanno facendo gli esami di terza media e di scuola superiore tipo Gaokaona noi abbiamo qua la maturità e stanno cominciando in questo periodo per tutti quanti saranno solo interrogazioni orali fanno solo a voce fanno una ricerca che si chiama tesina eh sì tesina su 4-5 materie scolastiche argomenti che hanno studiato a scuola e poi dopo danno il voto in base a un'interrogazione di 30, 40, un'ora adesso non so di preciso e stavo guardando un attimo Gaokao quando riprende e si diceva che lo faranno a luglio giusto? fra un mesetto sì sì fra un mesetto e loro come faranno? Faranno scritto oppure orale? Come si stanno organizzando? no 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 come scritto come prima non è cambiato nulla e come protezione come fanno? Si mettono le mascherine oppure fanno la distanza? sì 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 le distanze sono obbligatorie tipo anche adesso la scuola quando nel pulmino della scuola una fila solo si chiede una persona ah sì tengo la distanza sì in teoria anche qua però tutti indossano la mascherina e si fa quel che si può non è sempre facile tenere a distanza di sicurezza però sono abbastanza contento che molti usano la mascherina qua in Italia non pensavo ti dico la verità infatti tanti avevano paura che gli italiani non seguissero l'esempio dei cinesi o di altri paesi che non rispettassero le regole e invece invece le rispettano perché è una cosa di sicurezza per la salute tua e degli altri eh sì 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 è obbligatorio è obbligatorio però in Cina adesso non è più obbligatorio tenere la mascherina cioè la gente lo usa lo stesso o in giro o metà a metà come la tua... allora dipende da... tipo se vai alla banca c'è un controllo molto forte, rigido invece se vai all'ristorante soprattutto piccoline non ti controllano ah non ti misurano neanche la temperatura quindi la gente... diciamo tanta gente tende a non portare le mascherine ho capito e al ristorante siete... sei tornato a mangiare al ristorante dopo il lockdown oppure ancora non te la senti? ok allora io a pranzo mangio sempre con gli impiegati quindi sempre andare in ristorante ok questo... questo non c'è la differenza prima o dopo anzi quando abbiamo iniziato a lavorare nel periodo di febbraio andavamo già in ristorante c'erano delle cose in più di sicurezza vabbè vi lavavate le mani prima e dopo sicuramente oppure i vetri sì 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 no questo certamente anzi noi anche se un'azienda piccolina abbiamo messo delle tipo detergenti quindi quello per proteggersi dalla... dalla minima protezione insomma sì 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 e... voi di solito ogni quanto cambiate le mascherine perché in Italia ti dico non c'è stata una comunicazione molto chiara su questo c'è chi dice che va cambiato ogni quattro, ogni otto ore, ogni due ore, ogni giorno, ogni due giorni io... cioè io... per assurdo seguo le... le direttive che dicono in Cina non so lì da voi a Shanghai o in generale cosa... cosa consigliano per cambiare mascherine quelle chirurgiche ogni... ogni quanto allora se parliamo chirurgiche è impossibile procurare ancora... parliamo di mascherine normali sì quelle tre veli, tre veli, quelle blu, tre veli sì e non sappiamo... cioè è sempre una qualità diversa anche se sembra alcune qualità... mascherine di qualità è meglio che utilizzi un giorno se tipo devi andare in posto pubblico... o utilizzare spesso le mascherine... allora un giorno è meglio cambiare una mascherina ho capito... quindi tu ci consigli di cambiarlo ogni giorno... cioè praticamente ogni otto ore sì 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 sì... assolutamente... sì infatti... è più o meno quello il consiglio che arriva da Oishin e... tu... la situazione anche... ciao... ah ciao sì... ciao... benvenuta... ciao... tutto bene? sì tutto bene... stavamo parlando dei consigli per usare le mascherine e Roby ci diceva di cambiarlo praticamente ogni giorno perché in Italia non c'è una direttiva che ti consiglia... ogni regione dice quello che vuole... non c'è una comunicazione unica... è un problema di comunicazione in tv da parte dei vari... forse è dipeso anche dalla reperibilità oppure è semplicemente mancanza di informazione... all'inizio è la reperibilità... perché ci dicevano di non utilizzare la mascherina se non... se non era propriamente necessario di tenere la distanza di sicurezza... ci dicevano... usatele solo se siete presunti malati oppure a contatto con dei malati... ecco... era lì la situazione... adesso invece la mascherina è d'obbligo per uscire e andare al supermercato... quindi bisogna usarla... visto che c'è la provvigione... il rifornimento c'è... adesso stanno... praticamente si sono divisi in Italia tra quelli che producono le mascherine lavabili... in tessuto o non tessuto... TNT... che costano almeno 2-3 euro in su... fino a 8-9-10 euro... c'è una varietà di prezzi... e quelli sono lavabili... dicono 10-10-20 volte... poi quelle chirurgiche sono al prezzo calmierato... che è 50-60 centesimi... l'inclusa nelle farmacie... adesso si trovano anche nei supermercati... so che in Cina ci sono i distributori automatici... che tu puoi pagare col cellulare e prendere mascherine... non so se ci sono anche lì da voi... a Shanghai... sinceramente... non so... sinceramente... forse in alcuni punti... ma non abbiamo... almeno io non li ho mai visti... però li reperiamo... vabbè... ormai sono in farmacia... o comunque online... quindi... insomma sono... non sono più un problema... anche se ora... diciamo che col caldo è un po' molto difficile portarlo... eh assolutamente... mi diceva Roby che i prezzi adesso sono di nuovo calati nelle mascherine... siamo a 8 centesimi di RMB... e facevo 85... e la conversione è 11 centesimi di euro... cioè... è un quinto di quello che li compriamo a noi... e volevo chiedere... sì vabbè... però... sia normale questo... eh sì... sì... dovrebbe essere normale... nel senso che comunque l'anno... sì... comunque anche prima del... dell'epidemia... le mascherine in Italia costavano in circa questo prezzo... anche se è vero che il prezzo è stato fissato dallo Stato... però... diciamo c'è stato quel periodo in cui tutti... eh... hanno fatto la rincorsa no... per... per alzare... ma perché non c'era la reperibilità del prodotto forse... cioè... probabilmente... sì sì sì... no... io... prima dell'epidemia... eh... da... dal nostro dentista... eh... da... mh... il prezzo... eh... suo... eh... all'ingrosso... era credo sui 2-3 centesimi... IVA esclusa... ed erano prodotti in Cina... quindi... questo era il prezzo wholesale... delle mascherine... non so se erano certificato o no... perché è uso dottoriatrico... quindi... magari hanno dei... come si dice... requisiti un po' più bassi... tanto loro lo usano per 4 ore e lo buttano via... però... questo per farti dare l'idea di... quanto sia... aumentato il prezzo... e... a proposito di prezzo... eh... tu... sì... hai notato qualche aumento... di beni di prima necessità... o mancanza di... qualcosa... perché qua mancano i guanti... dicava Roby... i guanti non si trovano più... eh... eh... i guanti... di prima necessità... forse... diciamo... in questo momento no... però sicuramente durante... eh... il periodo... ehm... diciamo... nel primo periodo di... di crisi... c'è stata una forte mancanza del... eh... dei... tipo di... di prodotti di consumo... quindi alimentari... ma non perché... ma non perché mancavano... diciamo nel... effettivamente in realtà... ma perché c'è stato un assalto no... nei supermercati... e quindi... c'è stata la gente che... si è voluta un po'... eh... eh... fare la grossa spesa... diciamo... tenersi un po' le cose in casa... per paura no... mhm... per esempio... che prodotti... perché in Italia... hanno comprato tutta la pasta... e hanno lasciato le penne lisce... e le farfalle... sullo stepale... la gente non voleva comprare le penne lisce... si vede che... è una pasta... odiata... ha fatto ridere... perché a Milano solo penne lisce si trovavano... non so in Cina... non credo... c'è lo stesso problema... bene capisco... anche a me non piacciono... a me piace solo la pasta rigata... ha ha ha... ho capito... allora... i cinesi cosa hanno fatto fuori? no... sì... in realtà... in realtà abbiamo... abbiamo notato che mancava la farina... hm... eh... quindi a certo punto si trovavano solo farine... eh... di ingusta molto piccole... quindi 200 grammi... da 500 grammi... però quelle... busse da 4 o 5 kg... che di solito magari non... una famiglia normale almeno... no... di... eh... 3 o 4 persone magari non la comprano... no... invece... andavano sono andate tutte a ruba... pazzesco... e... sì... una... una... e poi... riso no... perché riso comunque... diciamo abbastanza... cioè almeno dentro i supermercati c'è... ce n'è sempre in grande abbondanza... mh... e poi i detergenti... di tutti i tipi... mh... mh... i... i surgelati... ah... sì... quindi... carne... carne... eh... anche... tipo sai... i ravioli... queste cose... o il pane no... surgelata... la roba surgelata... eh... diciamo che è mancata un po'... e poi le verdure fresche... mh... si potevano reperire solo di mattina... mattina presto... eh... diciamo durante l'orario d'apertura... e poi se passavi dopo le dieci... o... comunque le undici... le undici così... già... erano svuotati... mh... uscivano una... una alla volta... la spesa... mh... sì... sì... c'è stato una... diciamo una... un consiglio da parte delle... delle autorità... di far uscire... una sola persona... mh... eh... di buona salute... quindi con una... eh... con buon sistema immunitario... ok... e... e... fare la spesa almeno... è sufficiente almeno per due giorni... ah... due giorni... ok... no... qua ci consigliava almeno qualche settimana... cioè... i miei compravano per tre... quattro settimane... eravamo... eh... in cinque in casa... quindi... facevano delle spese da duecento euro... per fortuna... avevamo due o tre supermercati qua vicino... e la macchina... cioè... non è una cosa scontata... no... per fortuna qui... diciamo che la gente... la gente non ha... cioè... quello che usciva magari erano soprattutto anziani... o comunque persone che non avevano la possibilità... di... di comprare online... eh... per fortuna... diciamo... l'online in Cina... eh... funziona molto bene... e ci sono state... eh... varie aziende che hanno messo anche... personale in aggiunta per... durante il periodo del covid... proprio per... eh... per soddisfare diciamo... le esigenze dei... dei... di tutti gli utenti... eh... scusa... e i prezzi sono... secondo te erano più o meno in linea rispetto all'anno scorso o leggermente aumentati? del... eh... allora... devo dire che secondo me i prezzi sono rimasti... eh... in linea... perfettamente in linea con... con i prezzi prima dell'epidemia... ma questo perché... eh... c'è stato un forte controllo del governo... ok... eh... eh... nel senso che... eh... diciamo che ci sono alcuni stati... ci sono stati alcuni casi... in particolare anche una supermercata... una catena francese molto famosa... di supermercato... ok... che ha... che ha... diciamo... ha fatto un aumento del... quasi 60% dei prezzi sulle verdure... urca... e quindi una... un normale cavolo che magari... lo trovavi a... non so... due remigli al... mezzo chilo... mh... a un certo punto è diventato anche... sopra i dieci remigli, no? una cosa assurda... mh... eh... sì... e... e quindi diciamo che lì è stato subito... eh... le autorità sono subito intervenute... hanno fatto una... una multa abbastanza... eh... abbastanza alta... e quindi sono stati... ci sono stati subito questi avvertimenti, no? sì... e... e... e per questo che... secondo me dopo... le... le persone non hanno... non hanno comunque... non hanno potuto anche giocare su... eh... sull'aumento dei prezzi... beh... è una fortuna che ci sia stato... questa serie di controlli... sì... sì... sicuramente... sicuramente... guarda... ti dico... poi... sì... poi magari nelle delivery... eh... diciamo abbiamo notato che magari... si chiedeva una... eh... eh... diciamo di... di pagare leggermente... mh... in più la delivery... ma solo il costo del corriere... perché comunque erano persone che... eh... rischiavano... tra virgolette... eh... eh... per consegnarti la roba... e lo consegnavano diciamo in orari anche... eh... eh... straordinari, no? Ho capito... eh... però... questa diciamo è... secondo me anche giusto, no? Sì, sì, sì... assolutamente... no... guarda... in Italia... in Italia hanno scoperto... in questi mesi... la... la... la spesa online... è una cosa che offrivano poche catene... che sono molto famose... eh... solo che hanno avuto un collasso... perché la consegna andava da due... tre settimane dopo... anche un mese dopo... era molto incerta... e in più... la cosa positiva è che hanno dato la consegna gratuita alle persone over 65, quindi ai pensionati... quindi cercando un po' di tutelare quella fascia di... di... di persone che era a rischio... a rischio mortalità del covid... eh... no... per il resto... guarda... qua i prezzi... non abbiamo notato neanche noi degli aumenti... scarsità di farina... quello sì... anche dei disinfettanti... eh... tipo di qualsiasi genere... per la casa... eh... mh... a parte la farina... ah sì... i prezzi... non sono aumentati... ma hanno sospeso le promozioni... che è una cosa molto importante in Italia... avere il volantino... con gli sconti del 30... 50%... quindi si va dalla catena più cara... che c'è sotto casa... più piccola... fino ai discount... che hanno sospeso i volantini... la scontistica normale... e quindi... questo l'hanno fatto per due o tre mesi... dopo che hanno... hai cominciato la fase due... ovvero potevi andare nel supermercato che volevi... la scontistica è ritornata... quindi siamo tornati a una sorta di normalità... anche a livello lavorativo... l'unica cosa che... non sono ripartite purtroppo... è l'industria del turismo... eh... dello spettacolo... i concerti... non si sa quando riaprono... dicono che riapriranno le discoteche... però devono tenere la distanza... e le mascherine... quindi... saranno dei gran privè... non so che dire... adesso ci informeremo... non so in Cina se... i locali notturni hanno riaperto... ho visto delle immagini... qualcosa va... però... sì 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 hanno... sì... in realtà... in realtà diciamo che tutti i locali... o comunque tutte quelle... eh... quelle aziende... che hanno fatto... che hanno richiesto l'autorizzazione di riaprire... quindi sono state controllate a noi... sono... eh... e risultano a norma... hanno riaperto... anche se magari qualche istituto di formazione... oppure... eh... non so... anche queste... eh... queste scuole per bambini... scuole private... intendo eh... magari sono queste... diciamo che... sono ancora chiuse... però il resto... diciamo è abbastanza normale... ora è diventato... è tutto tornato... tornato nella normalità... eh... eh... Roby... o Shin... secondo voi... c'è qualche previsione futura... sull'andamento dell'economia... vi azzardate a dare qualche... consiglio... oppure... eh... come si dice... di evitare... investimenti qualcosa... no... perché... per esempio ieri... la borsa... nel mondo... è crollata... è stato... a Milano c'è stato tipo... meno 4 o meno 5%... in America... meno 6... sulla borsa di New York... eh... secondo me... è interessante sapere da voi... se... mh... avete qualche consiglio... o cosa da evitare... per il prossimo futuro... cominci a te Roby... o... cominci a Shin... cominci a Roby... eh... consiglio finanziario... consiglio per... consiglio finanziario? sì... anche se non sei esperto... ma... no... giusto per sapere... un attimo l'umore... perché... comunque gli italiani... sono sempre curiosi... della Cina... a livello di investimenti... e quindi... non lo so... tu sei dentro... quindi secondo me... conosci più di me... di sicuro... ma... cioè... parliamo del... eh... consiglio... per... italiano individuo... o... per le aziende? tutte e due... secondo me... meglio aziende... meglio dire... il business... qualcosa che... può funzionare... o no... qualche settore... che stanno riprendendo... stanno avendo boom... per esempio... qua c'è e-commerce... che va in boom... cioè... Amazon... Amazon Italia... o in generale... sì sì... è verissimo... più anche le aziende informatiche... io stesso sono coinvolto... e... non mi sono mai fermato... cioè... oggi sono di riposo... per esempio... però in teoria... non... si lavora... 8 ore al giorno... ma... secondo me... in questo periodo... siccome... il volo... tra Italia e Cina... ancora... fermo... quindi... gli italiani... non possono venire in Cina... né i cinesi... possono andare... in Italia... per lavoro... quindi... la fiera... anche se... in Cina... comincia... da luglio... a riprendere... e... in Italia... forse da settembre... c'è una... ci sono già delle... movimentazioni... se non c'è cancellamento... sì... e... secondo me... eh... il... approccio di lavoro... è... è cambiato... cioè... la gente non è... eh... non... c'è... una volta... magari l'azienda italiana... fa... vado in Italia... vedo questo fornitore... mi approfitto di una settimana di tempo... e adesso... non si può più fare... quindi... è bene che... eh... cambiare... approccio di... verso... mercato Cina... quindi... eh... diciamo... anche... prima... cioè... come... parliamo del lavoro di interprete... si parla di interprete di accompagnamento... ma adesso si parla di... eh... interprete... traduzione... conferenza... cioè... con Zoom... eh... e... così via... quindi... l'approccio di lavoro... sicuramente... è diverso... poi... sicuramente... l'Italia... tanti settori sono forti... soprattutto... macchinari... eh... eh... attrezzi... auto... eh... mota... eccetera... quindi... l'Italia... deve essere... più coraggioso... verso... mercato Cina... e... penso che... cioè... l'Italia... prima era... abbastanza chiusa... all'interno... per l'economia... eh... anche se... maggior parte... delle aziende... grazie all'esportazione... si poteva... sopravvivere... però... le aziende... mentalità... sono... abbastanza chiude... verso... mercato estero... verso... mercato... Cina... e... penso che... in Cina... adesso... il consumo... sta aumentando... eh... per qualsiasi aspetto... quindi... anche food... vino... di Balliamo... sta... consumando... si sta riprendendo... quindi... è un... buono... per... per l'Italia... mh... quindi l'Italia... come l'azienda... deve essere più... aggressiva... al mercato Cina... e con... ovviamente... con... la strategia giusta... mh... ottimi consigli... si... vuoi aggiungere qualcosa... magari un settore che... non ha accettato Roby... mh... mh... beh... sicuramente... sicuramente... secondo me... eh... dopo un periodo di crisi... dove... comunque... eh... non dico che tutti stanno male... ma... ci sono tanti settori che veramente hanno... che stanno soffrendo... e hanno sofferto... tanto... eh... in questa epidemia... e... però... in tutte... come tutte le crisi... quando si va... si è toccato il fondo... hm... diciamo che il periodo dopo... dovrebbe essere... eh... sicuramente quello... per alciarsi e... investire, no? mh... mh... e... e... come... abbiamo visto... in questi... in questi mesi che... soprattutto nell'ultimo mese... perché comunque sarà il caldo... sarà che la gente... ormai... non ne può più di stare in casa... la gente ha veramente voglia di consumare... no... ha voglia di spendere... ha voglia di andare fuori... e... e quindi... ehm... diciamo che... ehm... anche... anche le autorità li stanno aiutando in questo senso, no? quindi... tutte le attività sono riaperte... eh... addirittura diciamo... il governo di Shanghai, per esempio, la... scorsa settimana ha fatto... eh... ha indetto questa... questa autorizzazione a tutti di... di rifare le bancarelle, no? queste... in mezzo alla strada... per... proprio per... è una... sembra una sciocchezza, no? però... eh... quando animi comunque... eh... le strade... la gente poi ha voglia di uscire... ha voglia di vedere... ha voglia di incontrarsi... eh... ed è un modo per riprendere a viv... eh... per riprendersi la vita, no? eh... eh... quindi secondo me le... diciamo che le... le aziende in questo momento dovrebbero... veramente pensare bene... eh... e vedere... che tipo di... che tipo di... eh... di approccio... avere nel... per il loro business... eh... perché il modo... diciamo in tanti settori... soprattutto abbiamo visto che il modo di fare marketing... e il modo di vendere il... il proprio prodotto è cambiato... quindi... mentre magari prima... tu... va andare a presentare... eh... e... avevi sott'occhio, no? lo potevi toccare con... con mano il prodotto... ormai in Cina almeno... funziona tutto online... e soprattutto funziona... ehm... funziona... con persone... eh... con queste persone di... diciamo... questi influencer... che... ti dicono cosa comprare... eh... ti indirizzano sul... sul... sul prodotto... eh... ed è un... e abbiamo visto che è un nuovo modo di fare business che... eh... che ha molto successo... e... e queste... tutte queste nuove vie... le aziende le dovrebbero considerare... se vogliono venire in Cina... eh sì... e se vogliono avere successo in Cina... e non... optare solo per... metodi... solo per i metodi tradizionali... e... e di essere meno timido anche... ah... quindi di usare un po' sul... sul marketing quindi... proprio su... sì... sì... perché è una cosa che soprattutto almeno io ho notato... diciamo... in generale delle... delle aziende italiane... eh... che puntano molto sul prodotto... sul... in sé... ok... quindi... in realtà... eh... diciamo che per... almeno... eh... penso per tutti... il prodotto in sé non ha valore... almeno che tu... non... almeno che non si sia... stia parlando di un prodotto altamente tecnologico... unico... ok... eh... che appartiene solo a un'azienda... allora ti dici... ok... io vado sul mercato... ho valore... perché ce l'ho solo io... perché ho questa tecnologia... e ce l'ho solo io... mhm... allora in questo... quello è un discorso diverso... ma siccome... eh... diciamo i mercati... i settori in cui l'Italia è forte in Cina non sono... eh... non... almeno... non sono solo quelli eh... tecnologici... eh... allora forse bisognerebbe trovare altre vie anche a volte... essere più flessibili e investire un pochino di più sul marketing... piuttosto che eh... eh... restare eh... molto chiusi e dire il nostro prodotto è... è un prodotto di eccellenza... e poi finire lì la... la cosa... sì sì sì... no... non so se da casa conoscono il marketing in Cina... io praticamente faccio un riassunto... in Cina ci sono dei... questi influencer che si chiamano KOL... eh... che sono dei leader di... 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 per... diverso pubblico sui social... e niente... loro promuovono attivamente il prodotto... adesso qua sto facendo vedere delle immagini su Google... e fanno praticamente degli streaming... dove pubblicizzano quel prodotto in generale... e lo fanno su piattaforme in contemporanea... eh... io... l'unico esempio che mi viene in mente che è in Italia... di blog influencer che lo fa... eh... è Chiara Ferragni... eh... Chiara Ferragni in questo momento sta pubblicizzando... dei biscotti... che sono molto famosi... si chiamano Oreo... ed è una campagna molto flash... che appunto associa un prodotto che conosciamo tutti... però è una veste nuova... con un'influenza molto importante... perché Chiara Ferragni... non so se mi potete confermare... è molto famosa in Cina... sì... è seguita... famosa... e abbiamo anche i suoi negozi... eh... esatto... cosa che non c'è in Italia... Chiara Ferragni ha aperto i negozi in Cina... eh... in Italia... ha dei... flagship store... sono dei... dei negozi... stagionali... vanno... per un periodo... poi vengono... sono temporanei... poi dopo vengono chiusi... a seconda delle collezioni che fa... però... credo che ci siano fissi... o comunque stabili in Cina... ci sono da qualche anno questi negozi... nei negozi... e sono... e soprattutto sono... nei centri commerciali importanti... eh... assieme a marchi internazionali... molto prestigiosi... tipo? quindi diciamo anche... passiamo dei nomi... così la gente capisce... posso... posso... posso nominare i marchi? sì sì sì... tranquillamente... ci sono anche... dimmi... ci sono anche brand italiani... tipo Pinco... oppure stanno vicino... a Sergio Rossi... quindi diciamo che... anche il... la... la posizione in cui... si è collocata... no? sicuramente ha fatto... sicuramente ne ha giovato... del marketing che ha fatto... eh... infatti... mi sembra assurdo... dire che... la Caraferani è un buon esempio... del marchio italiano... che è arrivato in Cina... però... è la verità... forse... è posizionato... tra i primi dieci... come... come... come immagini dell'Italia... all'estero... tu... qual è stata la sensazione? sì sì sì... sì... sicuramente... eh... purtroppo... io dico sempre... siamo tutti... la maggior parte delle persone... è visiva... no? quindi... quello che vedi... è... è quello che... che ti rimane... quello che non vedi... non ti rimane... ok... eh... e quindi dico... cioè... bisogna davvero spingere sul... sul marketing... la stessa... in tutti... veramente in tutti i settori... sì 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 sì... no... perché... come dici te... ci sono dei marchi... che si vendono da soli... perché hanno una tecnologia... io... penso soltanto... quando hanno venduto... le Lamborghini online... hanno fatto un boom... esatto... Alibaba... il CEO di Alibaba in Italia... lo dice sempre... in ogni trasmissione... noi... abbiamo venduto... tot Lamborghini... senza... così... un caso eclatante... però... quelli... sono prodotti... come si dice... noti... noti... sono... unici... esatto... sì... sì... è vero... quindi... per venere dei biscotti... se... dimmi... anche per... anche il discorso... secondo me del turismo... no... che... sentivo che in Italia... comunque c'è molta... molta preoccupazione... per... per questo settore... perché comunque sarà... è uno dei settori più colpiti... sicuramente... no... soprattutto... si stiamo avvicinando l'estate... e... sono tutti preoccupati... eh... che la stagione... non sarà... come quella... eh... non sarà... come dovrà essere... e... anche lì... non lo so... nel senso... a volte dico... lamentarsi non serve... nel senso... vai a chiedere... eh... piuttosto che andare a piangere... davanti a... a... non lo so... al governo... invece... invoccati le maniche... e trova delle soluzioni... no... perché... ci sono le soluzioni... se le... se le cerchi... invece... se aspetti che qualcuno te le dia... cioè... puoi stare tranquillo che... arriveranno... se ti arrivano... arriveranno dopo... quando l'estate è finita... mh... sì... il tempismo è assolutamente importante... bisogna cogliere appunto... le occasioni... nel momento giusto... il tempismo è... cioè... è fondamentale... anche in Cina... ci sono tanti... dimmi... cioè... vedo veramente... tante differenze... nel modo di fare business... è vero che parliamo di numeri diversi... e quindi a volte magari i numeri aiutano... e... e ti fanno anche fare business in modo diverso... mh... eh... però vedo anche che non... non si cerca... cioè... vedo sempre una Cina che continua a cambiare... e cerca sempre... nuove soluzioni... nuove... eh... nuovi modi per affrontare... il mercato... e vedo un'Italia che invece... rimane lì... eh... che vuole... non vuole... non si sa... che è indecisa... che ci mette tantissimo tempo per... anche per prendere una... una piccolissima decisione... e... ed è un peccato no? anche per il discorso del turismo... cioè... veramente... tutta Italia sarebbe bellissima da visitare... mh... e... riuscirebbe a trarre così tanti turisti... è vero che ora... magari non ci possiamo muovere... eh... così tanto no? e... oppure che... non ci... i voli internazionali sono ancora comunque chiusi... mh... eh... bloccati eccetera... però... perché non si cerca un modo... per... far sì... che nel 2021... mh... la gente venga in Italia... o nel 2022... eh... perché non si fa questo... e si conti... cioè... non si ha una visione a lungo termine... no? si cerca... si guarda solo il piatto ora... oddio... come andrà giugno, luglio, agosto... allora... fai un programma a lungo termine... e vedrai che... forse... ehm... riuscirai a trovare una soluzione migliore... non... cioè... cerchiamo di guardare un pochino più... più avanti... no? più lontano... io... spero che questa conversazione venga ascoltata da qualche imprenditore... eh... aperto... che abbia voglia di appunto investire... poi in marketing in lingua cinese... perché sarebbe veramente importante... cambiare un po' l'immagine... e investirci qualcosa... sono... sono d'accordo... sì... eh... il tempo sta per concludere... sì... io... non so se avete qualcosa da aggiungere... non so se posso aggiungere una cosa... a proposito di questo... una grossa piattaforma... una grossa piattaforma importante in realtà... durante il... durante la SARS... quando c'è stata la SARS... ok... eh... stava per fallire... quindi... diciamo che era un grande... grosso pericolo, no? mh... poi... alla... al... al... al fine dell'anno... quindi alla fine dello stesso anno... non sto parlando di... eh... eh... diciamo di... di tempi molto lunghi, no? allora... è riuscita a fare... è riuscita a fare... giusto? 2002-2004... sì... quel periodo... sì... e... diciamo quando c'è stato il boom, no? quel... al fine dello stesso anno... questa piattaforma è riuscita a fare... eh... la vendita... più grossa... storicamente... quindi fatturato più grosso... mh... dalla... 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 dalla fondazione... mh... e... e si è ripresa e è andata... a quotarsi in borsa... mh... quindi... da... 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 esatto... dal fallimento a questo... cioè... come sono riusciti a fare... se non avevano un business planning... cioè... non può essere una... la fortuna, no? non può essere... eh... solo un discorso di numeri... di... di persone che hanno voluto consumare... cioè... se loro non hanno fatto un... un... un piano... non hanno offerto qualcosa ai consumatori... affinché i consumatori... eh... come si dice... ehm... ehm... spendessero sulla loro piattaforma... non sarebbero mai arrivati a questo... sì... 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 se non avesse generato del traffico... non sarebbero risvolati... questi risultati... è fondamentale... esatto... quindi sicuramente sono... hanno fatto qualcosa, no? e... secondo me sono queste... cioè... questi... 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 grandi esempi... chiamiamoli... su cui le società forse si dovrebbero... basare... riflettere un po' anche... eh sì... probabilmente in Cina ci sono molti... tanti più esempi rispetto a qua... mercato più vasto e... ovviamente ci sono più... più leaders... più... storie di successo... in Italia... è un po' chiusa purtroppo... adesso speriamo che... riusciamo a aprirgli un po' la mente... con questo... con questa chiacchiera... eh... niente... vi lascio solo l'ultima domanda... una riflessione... per il futuro... e soprattutto per i giovani... voi... hanno un ragazzo di... di 16... di 18... 20 anni... cosa consiglieresti di fare... in questo momento... oltre a fare gli esami... a studiare... cosa... cosa gli consigliate... per il mondo futuro... per il lavoro... eh... che prospettive... che cosa fare... per un giovane... adesso... che cerca lavoro... Roby? allora... c'è... è difficile... forse... per... ragazzi... di questa età... adesso... soprattutto... progettare... il lavoro... in futuro... perché... forse anche la loro famiglia... sente... è un'area pesante... in questo periodo... essendo uno scolaggianti... di frequentare... l'università... ho letto un po'... anche... l'informazione... sulla disoccupazione... in Italia... sembra veramente alto... questa... questo percentuale... tasso di disoccupazione... dei giovani... e... tanti giovani... soprattutto... sembra... dopo la laurea... vanno all'estero subito... non restano neanche in Italia... e... quindi... è difficile per loro... ma... purtroppo... devono tendarsi... di... di... di crescersi... anche... cioè... con i propri sforzi... eh... cioè... fare più tironcino... anche... eh... in azienda... diciamo... eh... perché ci sono tanti investimenti... diciamo... dall'estero... in Italia... parliamo anche... dalla Cina... quindi... eh... secondo me... le... i ragazzi italiani... devono provare più... più possibilità di... lavorare... eh... sedici o diciassette anni... perché... vedo che i ragazzi... sedici... anni... cinesi... italiani... hanno... una grande differenza... nel senso... i ragazzi... italiani... sono più autonomi... dipendenti... ma... eh... cercano troppo... di andare... eh... spesso... su... ristorante... o alberco... a lavorare... eh... invece... i cinesi... sedici... diciasette... quasi... non guardano... non pensano neanche al lavoro... stanno... eh... bene... e... cioè... io dico... cioè... gli italiani sono bravi a questa età... che loro provano già... tipo... fare... che resiste... andare... al ristorante... fare... part-time... a guadagnare... quello che può... però... è importante anche... eh... ampliare il loro... orizzonte... nelle conoscenze... nello studio... così... possono avere una... una... opportunità... in più... rispetto... agli altri... in questo contesto di... internazionale... eh... adesso... soprattutto anche in Italia... sembra piccolo... ma... l'Italia è una... piattaforma grossa... per... parliamo di... globalizzazione... tante... tante aziende... straniere... stanno investendo... ho letto una... relazione... forse 25%... dalla... dalla Cina... tante aziende... cinesi... tipo... grosse aziende... parliamo di... Jinton... Kikok... stanno investendo molto... sull'Italia... anche Xiaomi... Alibaba... anche... WeChat... Tengshin... queste aziende... anche le banche cinesi... stanno investendo molto... in Italia... quindi... devono anche... cioè... non è che devono... possono guardare... anche questo... tipologia di lavoro... presso le aziende cinesi... in modo tale che... a 23... o 27 anni... quando... hanno... finiscono laurea... possono avere una... visione diversa... rispetto agli altri... tutto qua... ottimo consiglio... guardarsi un po' di intorno... anche... in cose internazionali... e te invece... che consiglio dai... ai nostri giovani... ai nostri giovani... siccome sono vecchia... ormai... no... 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 non siamo vecchi... però un po' di esperienza... possiamo darla... dei 10 anni... è molto fresca... diciamo... e quindi... secondo me... ha un valore... ha un valore... data... come sorella maggiore... no... sì... diciamo che quegli anni... l'ho già vissuta... e ora... ora posso dargli... consigli... assolutamente... e... io direi... prima di tutto... specializzatevi... ragazzi... veramente... specializzatevi... in qualcosa... e... 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 diventate i più bravi... in quella cosa... che volete fare... e... poi... ampliare i vostri... i... i vostri orizzonti... perché spesso... eh... ho notato che la... la problematica in... sia in Cina... che in Italia... sono persone che si focalizzano... solo su determinati mestieri... no... e... e quindi... mi sembra che... questi mestieri sodati... che sono quelli più dignitosi... se vogliamo... quelli che... i genitori che vorrebbero che tu... lo facessi... come tipo... avvocato... o... non so... eh... contabile... ingegnere... commercialista... questi... questi lavori qua... no... cioè... se non vi piace... non lo fate... specializzate... controllate... state sempre a passo... col mercato... controllate... perché a 17 anni... a 18 anni... a 20 anni... siete... cioè... siete delle persone indipendenti già... siete già degli adulti... e... state... entrerete nel mondo del lavoro... io spero... no... in... in pochi anni... quindi... guardate il mercato... perché il mercato richiede... non solo... avvocati... ingegneri... o... commercialisti... ma richiede anche... tante altre specializzazioni... e... e... tutte queste specializzazioni... sono... sono lavori... altrettanto dignitosi... altrettanto che... in cui potete... eh... fare carriera... e... e... quindi fatelo... non vi... eh... non vi chiudete solo... in quella... in quella... piccola cerchia... eh... e poi direi ai ragazzi di... di andare in giro per il mondo... guardate il mondo... perché il mondo è veramente grande... le opportunità ci sono... se voi siete preparati... se non siete preparati... le opportunità... come non ci sono in Italia... non ci sono... nel mondo... è vero che... ci sono dei posti ancora... eh... in cui diciamo... le vostre capacità... potrebbero essere... eh... sufficienti... in quel momento... quindi... a vent'anni potresti essere... eh... potresti fare dei lavoretti... però... se non siete preparati... a trent'anni... sarete sempre lì... e non crescerete mai... e... e quindi... direi ai ragazzi... veramente studiate... specializzatevi in qualcosa... eh... ampliate i vostri orizzonti... guardate il mondo... guardate il mercato... state sempre a passo... grazie... sì... è stato un bellissimo... incoraggiamento... ai nostri giovani... speriamo veramente che... qualcuno... lo segua... e ci ringrazio in futuro... però... noi intanto... vi lasciamo qui... e... grazie mille... per essere intervenuti... stasera... adesso... è già un po' tardi... in Cina... vi lascio... dormire... e vi... vi richiamerò... per un'altra... un'altra chiacchierata... sono sicuro che... eh... oggi... ci saranno... diversi commenti... su questo canale... e niente... dico ai ragazzi... a casa... di mettere... per favore... mi piace... e iscrivetevi al canale... perché... manderemo altre interviste... nei prossimi giorni... intanto salutiamo... Roby e Sheen... e gli auguriamo... una buonanotte... grazie... ciao... ciao...